Salve a tutti, qui Arbrus, finalmente di ritorno dalle vacanze estive. Volevo ringraziarvi per il supporto e per l'affetto mostrato in questi ultimi mesi e per il raggiungimento dei 500 iscritti ottenuto qualche settimana fa. E a tal proposito, voglio organizzare un contest. Ma prima faccio qualche annuncio. Le rubriche Essere un Master e Mostrologia riprenderanno la loro produzione normalmente nelle prossime settimane. In aggiunta a queste ci sarà una rubrica dedicata ai sistemi di gioco, dei giochi di ruolo appunto, e una seconda rubrica chiamata Avventura Interattiva, di cui parlerò meglio in un prossimo video. Per quanto riguarda il contest invece, le regole sono molto semplici. Ovviamente dovete essere iscritti al canale e dovrete condividere il post che farò su Facebook, di cui lascio il link in descrizione. Per quanto riguarda invece il contenuto del contest, esso riguarderà una creazione di un'avventura. Dovete commentare sotto questo video il pitch di un'avventura di vostra creazione, ossia una breve descrizione dei suoi momenti salienti. Un pitch può descrivere magari i piani di un villain e di come il gruppo tenterà di opporsi ad essi, oppure l'inizio, la premessa di un'avventura eroica in cui si affronteranno le forze del male. Insomma, c'è largo spazio alla creatività. I commenti che riceveranno più votazioni entro la fine del mese, insieme a quelli che riterò più interessanti, saranno scelti per una votazione finale. Il vincitore sarà ricompensato con una seduta su Skype in cui, insieme a me, andremo a sviluppare la struttura narrativa e il plot dell'avventura vincitrice. Il pitch della vostra avventura non deve essere estremamente lungo. Saranno premiati, oltre l'originalità, la chiarezza e la concisione. Prima di passare ai saluti, vi ricordo che, se volete, potete supportarmi condividendo e iscrivendovi al canale e supportandomi su tutti i miei social, di cui trovate i link nell'home page del canale. Ho aggiunto pure una nuova pagina, ossia quella di Ko-fi, in cui potrete offrirmi un caffè che rappresenta una piccola donazione per migliorare la qualità del re-video del canale e anche per supportare le mie future produzioni, sia che riguardano il canale, sia supplementi come avventure per i GDR, ma anche i GDR stessi. Vi auguro buona fortuna per il contest, arrivederci e grazie.